La protesta è iniziata sabato mattina dopo che non c'è stato l'accordo che tanto si era sperato per i lavoratori interinali di Attiva. Da questa mattina si è dato avvio a una raccolta firme. In realtà sono già state superate le 200 firme e un'altra caratteristica è chi ha firmato. Qui hanno firmato oltre al cittadino di passaggio, sono venuti a firmare politici destra, sinistra, tutti insomma. Possiamo vedere dei nomi che ci sono scritti. Hanno firmato tutti quanti, si stanno iniziando a sensibilizzare un po' tutti. O è una facciata, lo fanno per far vedere o veramente credono a noi ma nessuno lo può dire. Ecco questa è una raccolta firme ma visto che si va ad oltranza con lo sciopero, ricordiamo che voi dormite esattamente qua davanti al comune da diversi giorni. Cosa serve per cercare di mettere fine anche a questo sciopero e soprattutto a questa manifestazione? Perché ovviamente passano i giorni ma ci si attende qualcosa? Eh sì, il nostro posto di lavoro, quello per cui abbiamo studiato da 8 anni al 31 dicembre. Ma dall'avvio della protesta non avete più avuto notizia da parte delle istituzioni? Alcuni sono venuti ma sono venuti a fare solo il comizio e le fotografie sotto gli strigioni. Per il resto non ci hanno detto niente. Noi abbiamo fatto la richiesta esplicita che i politici di là del marciapiede devono venire solo con fatti concreti alla mano. Da parte loro non c'è stato nessun segnale di avvicinamento nei nostri confronti. Noi siamo andati, noi a nome della nostra associazione creata lì dentro quella tenda, siamo andati dal presidente, da Blasiole, siamo andati a chiedere un incontro con i capogruppi per oggi. Adesso, in questo momento, stanno facendo l'incontro per vedere se si è mosso qualcosa. Abbiamo chiesto l'incontro col prefetto e dovrebbero far sapere tra oggi e domani quando ci accoglierà. Noi siamo ancora molto... ci hanno deluso perché per la Pescara Calcio si sono fatti vedere regione e vari pezzi forti. Per noi niente, perché la Pescara Calcio vuol dire che è più importante di 70 patri di famiglia che stanno a dormire in quella tenda da sabato.